Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Prima di iniziare, vi ricordiamo di condividere i nostri video con gli amici attraverso i social, grazie. Addio a Francesco Bruno, il medico e criminologo spesso ospite dei talk show. Tutti lo ricorderanno per i suoi interventi a porta a porta di Bruno Vespa e al Maurizio Costanzo Show. Aveva 74 anni e da tempo lottava contro una grave malattia. A dare il triste annuncio, sulla sua pagina Facebook, è stato Matteo Francesco Lettieri, sindaco di Celico, in provincia di Cosenza, dove viveva. Questa mattina Celico piange uno dei suoi più illustri concittadini, il professor Francesco Bruno, medico e criminologo di fama internazionale. Bruno, prosegue Lettieri, era un luminare impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai suoi studi era riuscito a ricollegare gli omicidi del mostro di Firenze all'esoterismo. E poi conclude scrivendo. A nome di tutta la nostra comunità, formulo le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie.